Un importante e sentito appuntamento, quello andato in scena alla Basilica di San Zeno, con relatore Gian Pietro Ghidini della Fondazione Pesciolino Rosso. Sono già quasi centomila le persone che hanno ascoltato dal vivo la testimonianza di questo coraggioso papà, che due anni e mezzo fa ha perso il figlio Emanuele in circostanze drammatiche, ma che non si è perso d'animo e ha deciso di mettersi a disposizione, di andare a incontrare i ragazzi, i genitori, per far sì che simili tragedie non si possano ripetere. Noi siamo andati a intervistarlo, la linea a Fabrizio Brida. Fra Corrat, ti chiedo com'è nata questa collaborazione con la Fondazione Pesciolino Rosso? Noi siamo venuti a conoscenza di questa fondazione da alcuni giornali locali, insomma, o anche nazionali che riprendevano il percorso fatto da questa fondazione che è attiva da due anni e mezzo e nasce per volontà di Gian Pietro Ghidini, della moglie e delle figlie, in ricordo del figlio Emanuele morto a novembre del 2013 in circostanze tragiche. Quello che possiamo dire è che appunto Gian Pietro gira tutta l'Italia, ieri era nelle Marche, le scorse settimane in Sicilia, l'altra settimana ancora in Sardegna, ha incontri praticamente ogni giorno appunto in tutte le zone d'Italia. In questi due anni e mezzo ha incontrato quasi 100.000 ragazzi e anche genitori, diciamo, in scuole, in teatri, in chiese, un po' dappertutto. Erano più di 500, tra Cresimandi e genitori della Val di Nonne e della Piana Rotagliana, ad ascoltare le parole intense di papà Gian Pietro nella Basilica dei Santi Martiri a San Zeno. Basta guardarlo per un istante negli occhi, sinceri e profondi, o ascoltare poche sue parole per capire che Gian Pietro è veramente un papà speciale, di quelle persone con un carisma e una personalità unici, capaci di rapire l'attenzione, di coinvolgere, di incantare. Ma forse Gian Pietro è semplicemente un papà. Un papà che un paio d'anni fa ha dovuto affrontare il dolore più grande, più devastante che un genitore possa provare, la perdita di un figlio. Un papà che non nonostante tutto, ha trovato e trova ogni giorno la forza di testimoniare che la vita è un dono prezioso, irrinunciabile e imprescindibile. Emanuele aveva 16 anni quando una sera, dopo aver assunto delle droghe a una festa con amici più grandi, si è buttato nelle acque gelide del chiese, il fiume che passa vicino a casa sua a Gavardo, nel Bresciano. Lo stesso fiume nel quale dieci anni prima aveva liberato un pesciolino rosso, da cui il nome della fondazione pesciolino rosso, voluta fortemente da Gian Pietro, che si occupa di aiutare i giovani a trovare la luce. È un onore grandissimo essere qui in Val di Non, in questa chiesa meravigliosa con tanti ragazzi, ai quali lancerò alcuni messaggi, ma uno in particolare è quello che nella vita si può anche sbagliare. Tutti abbiamo fatto chi più chi meno i nostri errori, ma dico sempre ai ragazzi, quando sbagliate, ricordatevi dei vostri genitori, non vogliate sempre prendere la scorciatoia, non vogliate risolvere i problemi da soli, perché a volte accade che per la paura di deludere, per la paura di guardare in faccia i nostri genitori quando facciamo delle cavolate, vogliamo risolvere i problemi da soli, vogliamo chiuderci noi stessi. Io dico ai ragazzi, parlatene, perché un genitore dà la vita. Per quanto noi genitori vi sembriamo lontani, distaccati, pesanti, pedanti, a volte egoisti, però sappiate che siamo pronti a dare la vita per voi. I giovani sono diventati la mia forza e la mia salvezza, perché ho perso il mio Emanuele a soli 16 anni, dopo una serata in cui ho ingerito delle droghe con amici maggiorenni e si è buttato in un fiume. Ho perso lui, ma ho ritrovato tanti figli, tanti ragazzi che con gli occhi lucidi mi abbracciano e ogni volta che finisco un incontro nelle scuole abbiamo fatto più di 400 incontri come Fondazione Pesciolino Rosso in tutta Italia, da Ragusa a Merano, da Sacile a Cuneo, Roma a Pescara, a Scampia, in ogni luogo. E quando ricevo questi abbracci o guardo i loro occhi lucidi o ricevo un messaggio dove mi dice un ragazzo mi hai salvato. Ecco io dico potrei morire domani che muoio felice. Cambiamo un attimo argomento e parliamo del libro. Da dove deriva il titolo che hai voluto dargli? Lasciami volare per la verità nasce da una canzone che forse dopo ci ascolteremo insieme. Una canzone che un autore bresciano che si chiama Giancarlo Prandelli ha composto per Emanuele. L'aveva intitolata proprio Lasciami volare, dedicata ad Emanuele. Ed è Emanuele in questa canzone che parla a me, suo papà. E il libro che è nato pochi dopo pochi mesi ha preso proprio il titolo della canzone, ma a voler significare che noi genitori non possiamo tenere, o meglio, possiamo tenere i nostri figli sotto una campana di vetro fino a un certo punto. Perché credo che lo scopo di un genitore comunque non sia quello di proteggerli per tutta la vita, ma sia quello di dargli gli strumenti affinché possano proteggersi da soli, affinché possano volare alti con le loro ali. Grazie Gianpietro. Grazie a voi, grazie davvero. Grazie a tutti.